La grave crisi che interessa lo stabilimento Enidig la colpisce anche gli operatori del servizio antincendio del Porto Isola. Rischiano 24 lavoratori su 49. La società siracusana Archimede infatti deve rivedere la portata del servizio in merito alla riduzione delle attività nell'area del Porto Isola. Dunque all'orizzonte si paventa un ridimensionamento dei lavoratori. Non ci stanno le sigle sindacali. Questa mattina si tinna dinanzi agli uffici della Capitaneria di Porto. Abbiamo processato pacificamente davanti alla Capitaneria di Porto e abbiamo incontrato il comandante per avere chiarimenti in merito. Il comandante è stato chiarissimo. È stato chiarissimo in cui ha detto con molta onestà intellettuale che ci sarà un anno di prorogo per quanto riguarda l'Archimede. E noi abbiamo un incontro in corso per quanto riguarda l'apertura di Caltanessetta per chiarire questa situazione delicata e anche nello stesso tempo per dare sicurezza il Porto Isola di Gero. Purtroppo nel giro di pochi anni siamo passati da 80 navi a 3-4 navi al mese. Di conseguenza, come abbiamo visto, un adeguamento di tutti i servizi, dagli ormeggiatori ai piloti, i piloti erano 5, ne è rimasto 1, gli ormeggiatori sono rimasti in 16, erano 20, ci serve anche un adeguamento per quanto riguarda gli altri servizi. Un adeguamento che non debba essere, non debba rientrare in licenziamenti o misure drastiche. L'adeguamento può essere anche da 5 mezzi passare a un mezzo nuovo, più funzionale e razionalizzare anche determinate squadre di lavoratori con degli asset diversi. Ma non si deve parlare assolutamente di licenziamenti e, questo lo dico a tutti quanti, la cabineria lavora a favore di chi è in porto, di tutti i lavoratori portuali a prescindere. La concessione con l'Archimede sarà regolarmente rinnovata dalla cabineria, non ci sono assolutamente problemi. L'unica cosa che abbiamo chiesto a chi gestisce questa società è di avere un nuovo piano per sapere se ci sarà un adeguamento di mezzi più nuovi e più funzionali. La raffineria so che ha diversi progetti, quindi penso che non si debba vedere soltanto in negativo questo purtroppo la crisi economica che c'è in questo momento. Naturalmente non potremo mai tornare ai tempi di 10-15 anni fa, questo è impossibile, improponibile assolutamente. Però penso che ci sia la possibilità che la raffineria, cambiando determinati obiettivi, possa sempre fornire la possibilità di un posto di lavoro e di avere un nuovo modo di lavorare a Gela.